Buongiorno, sono il professor Osvaldo Giorgi del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. Sono molto grato per aver avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna che ci ha dato un'ottima opportunità di continuare ad arricchire il nostro contributo, la nostra interazione con il professor Alberto Fernandez Teruel con il quale abbiamo collaborato nel campo della genetica e del comportamento animali da più di 20 anni e di continuare a organizzare e progettare questo progetto in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e del Dipartimento di Scienze Biomediche. Siamo veramente molto grati per questa opportunità che ci ha offerto la Regione Autonoma della Sardegna. Perfetto.